E ora è il momento del nostro spazio dedicato alla medicina, cura di Alma Grandin. Con noi c'è il professor Francesco Franceschi, primario di ortopedia dell'ospedale Fatebrei Fratelli di Roma. Professor Franceschi, parliamo dell'artrosi della spalla. A che età più o meno insorge questo problema? Può insorgere dopo i 60-65 anni, però anche prima, perché non è semplicemente dovuta ad un consumo della cartilagine, ma spesso i nostri tenni, i famosi tenni della cuffia dei rotatori, si rompono e non si possono più riparare. La spalla lavora male e quindi si consuma anche prima, anche prima dei 60 anni. Professore, ascoltiamo un vocale che ci è arrivato. Buongiorno. Vorrei sapere se prendendo gli integratori si può ricostruire la cartilagine oppure una volta consumata non c'è più niente da fare. Io soffro di artrosi alle spalle, alle mani, al ginocchio e prendo tanti integratori a base di cartilamine, però l'artrosi se lo sembra. Cosa potrei fare? Gli integratori sono sicuramente molto utili per allungare la vita della cartilagine, però purtroppo ancora non siamo riusciti né in laboratorio né in vivo a restituire la vita alla cartilagine, per cui non dobbiamo avere false speranze. Professore, un messaggio scritto che ci è arrivato. Da qualche anno la notte ho un dolore all'anca, dormendo sul fianco, mi devo mettere supina per stare meglio e di giorno non avverto quasi mai dolore. Quindi parliamo dell'anca e non della spalla, però. Spesso i dolori all'anca, specialmente nella parte esterna, specialmente quando avvengono di notte sulla posizione, non sono dovuti all'artrosi, fortunatamente, ma a delle tendiniti, per cui sono facilmente curabili. Ascoltiamo un vocale dei nostri telespettatori. Ho avuto una distorsione capiglia e piede destro. Devo fare l'arcianza magnetica con o senza mezzo di contrasto. Sempre capiglia e piede destro. La ringrazio. Basta sicuramente una buona risonanza magnetica ad alto campo, senza mezzo di contrasto. E sui problemi improvvisi del ginocchio, quando fa particolarmente male, c'è un'artrosi oppure un altro tipo di osteoporosi? Certo, innanzitutto la visita è fondamentale, però anche l'esame è più semplice, quindi una radiografia ci può aiutare a capire se c'è una deformità del ginocchio. Non bisogna sempre ricorrere subito alla risonanza magnetica. Quella lo utilizziamo per problemi molto più importanti. Allora, ritorniamo invece all'artrosi della spalla. Per la diagnosi, quando abbiamo un forte dolore, quindi artrosi in questo caso, qual è la terapia? Innanzitutto la visita è molto importante perché ci permette di capire con quale patologia siamo di fronte. La terapia più importante da fare, innanzitutto, è quella conservativa, quindi con antinfiammatori. A volte spesso le famose infiltrazioni servono per sbloccare un braccio bloccato dall'artrosi. Però chiaramente molto spesso, quando i tendini della cuffia dei rotatori sono talmente usurati che non si possono riparare, quando la fisioterapia purtroppo non ha più funzionalità, a quel punto dobbiamo ricorrere alla chirurgia. Attualmente abbiamo delle protesi che fanno funzionare delle spalle veramente disastrate, che non si muovono più da anni. Professore, abbiamo un messaggio scritto. Ci scrive Francesco, chiede dell'artrosi della spalla, dice di essere stato operato L5-S1. Ogni tanto ho dolori lancinanti da farmi svenire, ho numerose protrusioni, ernie alla colonna e un angioma. Cosa posso fare per lenire e prevenire questo dolore? Purtroppo non hanno molta coincidenza appunto con l'artrosi della spalla, l'ernie del disco, quindi sono due patologie diverse. Se in concomitanza ho l'artrosi della spalla, devo curare anche quella. Professore, c'è un legame tra l'artrosi della spalla, i dolori alla spalla e lo sport? Ci sono degli sport che proprio... Assolutamente, per esempio i bodybuilder devono comunque sia pensare anche al futuro, perché purtroppo utilizzando tantissimo le loro articolazioni, anche le braccia con cui fanno tanti pesi, purtroppo le consumano molto facilmente, sia dal punto di vista dei tennis che dal punto di vista della cartilagine, per cui occhio a non fare troppi pesi. E troppo sport fa male, fa bene? Che cosa possiamo dire? Dipende. Un giusto, un moderato sport sicuramente fa bene, ma noi non siamo delle macchine che sono state progettate per andare a 300 all'ora, quindi stiamo attenti. Grazie al professor Francesco Franceschi, primario di ortopedia dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma.